versate le uova tre uova e il pizzico di sale nel boccale 1 minuto e 30 velocità 4 versate 200 g di zucchero 250 g di panna 250 g di farina mezza fiala aroma mandorla aggiungete la buccia grattugiata di un'arancia e la buccia grattugiata di un limone e una bustina di lievito 30 secondi velocità 5 versate in uno stampo 26 imburrato ed imparinato versate il croccante alle mandorle e le scaglie di cioccolato infornate a 170 gradi modalità classica statica per 40 50 minuti ottima questa ciambella che profuma ad arancia limone e mandorla spero che questa video ricetta vi sia piaciuta io vi lascio alla prossima un bacio